Oggi vi farò vedere com'è facile disegnare un'urtenzia. Se vi interessa seguitemi. Procuratevi un foglio di carta da disegno, una matita, una gomma, un piattino e guardate qui dei fiori di urtenzia. Useremo per disegnare la tecnica del Daisy Painting. Posizionate il piattino dove volete disegnare l'urtenzia e fate un cerchio. Ora prendete i fiori, metteteli a testa in giù e disegnate la loro cololla girando intorno ad ogni petalo. Il Daisy Painting è una tecnica che sfrutta il contorno dell'oggetto che vogliamo disegnare. Se volete sapere di cosa si tratta andate a cercare sul mio canale nella playlist Daisy Painting i video relativi così imparerete una nuova tecnica di pittura molto facile. Quindi ripetete l'operazione posizionando il fiore all'interno del cerchio tutte le volte che è necessario. Potete anche cambiare il fiorellino in modo tale che ce ne siano alcuni di grandezza maggiore, altri di grandezza minore. Se i miei video ti piacciono condividili così dai la possibilità ad altre persone di conoscere il mio canale e di poter imparare attraverso di esso. Non dovete rimanere all'interno del cerchio, anzi qualche petalo deve uscire fuori perché i fiori sono messi sì in una forma di palla ma comunque i petali tendono a piegarsi ed uscire fuori dallo schema rigido del cerchio. Quando vi capiterà di disegnare un fiorellino messo tra tutti gli altri bisognerà disegnare soltanto la parte del contorno che occupa lo spazio ancora bianco. Ecco qui tutti i fiorellini della nostra hortensia. Adesso osserviamo il fiorellino, al centro c'è un piccolo bottoncino, riportiamo questo a mano libera al centro di ogni fiore disegnato sopra la carta. Definiamo anche i relativi petali, questo lavoro lo sto facendo adesso non più con la matita ma con un marker nero, prendetelo indelebile così nel caso il disegno lo state facendo su una carta d'acquarello potrete direttamente dipingere senza il rischio che il colore nero si spanda. In questo caso vi conviene prendere un marker che abbia una punta molto fine in modo tale che il segno sia molto leggero. man mano che vi avvicinate alla fine del lavoro date uno sguardo generale e cercate di comprendere dove è necessario ancora mettere qualche petalo, qualche mezzo fiore, qualche pallino e poi alla fine concludete e osservate il lavoro in tutta la sua interezza. Disegni di hortensia ne trovate anche sui miei album nel caso non sappiate disegnarle o non avete voglia di provarci. Questo che state vedendo è l'album numero 5 e qui potete trovare un disegno di hortensia in forma lineare. Questo album è dedicato alla pittura su stoffa ma questi disegni sono utili anche per grandi lavori per esempio sulle pareti, sui tavoli, sulle ante degli armadi e così via. Sono stati pensati in forma lineare o circolare. Nel caso siete interessati all'acquisto vi lascio il link in descrizione. Con la matita potete anche aggiungere tutti gli spazi in ombra dove non sono disegnati i fiori che vengono realizzati facendo il tratteggio. Questo vi aiuterà durante la pittura perché li potrete andare a mettere il colore più scuro già direttamente e sapete dove cominciano e finiscono i fiori perché vengono evidenziati maggiormente dal colore scuro. Passiamo adesso a disegnare la foglia come nel caso del fiore utilizzerò la foglia vera che verrà posata sul foglio nel punto che ci sembra ideale e di cui riprendiamo la forma del contorno. Osservate la foglia reale adesso e copiate le nervature che sono all'interno. C'è la nervatura centrale e messe in modo obbligo ci sono le nervature laterali che non sono speculari quindi non iniziano esattamente dallo stesso punto sia quella di destra che quella di sinistra ma sono leggermente spostate. Speculare quando è la spina di pesce. Nel caso invece di queste foglie osservate una leggermente più sopra quella precedente che sta dall'altro lato. Adesso a mano rifiniamo il contorno della foglia dandogli la seghettatura. Ricordatevi che i due lati della foglia scorrono con le seghettature rivolte tutte e due verso la punta. Adesso vale di evidenziare con il marker nero anche i contorni della foglia. Evidenziare con questo colore nero il disegno vi aiuterà a conservarlo bene per molto tempo e soprattutto sarà più facile utilizzarlo più e più volte come copia. Nel caso lo dobbiate trasferire su un supporto da dipingere. Quando avrete finito cancellate con la gomma tutti i residui di matita. Come vedete il disegno è molto bello e pensate che se ne disegnate tanti potrete fare anche un mazzo di hortensie. Non mettete freno alla vostra fantasia. Il mio video finisce qui spero vi sia piaciuto. Intanto mettetemi un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi che lunedì prossimo ci sarà un altro video tutorial. Vi lascio e vi auguro una serena giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.